Quando sentiamo parlare di questi temi, di questi problemi, della tutela, della salute dei cittadini, dobbiamo capire che veniamo da una situazione che è bloccata da 70 anni e oggi noi abbiamo l'occasione di cambiarla. La sanità in Regione Emilia Romagna ci viene venduta, ma effettivamente è così, come una sanità di eccellenza, perché effettivamente la Regione Emilia Romagna, rispetto ad altre regioni, ha dei servizi avanzati. Però quello che noi ci poniamo come domanda in Regione è, ma questa sanità è di eccellenza grazie alla politica del PD o nonostante la politica del PD? Beh, io ritengo che sia nonostante la politica del PD, perché in questi anni, soprattutto negli ultimi anni, si sta procedendo ad una riorganizzazione che sta mettendo in crisi la nostra sanità. Ancora tiene botta, ma questa riorganizzazione la sta mettendo seriamente in crisi. Noi vediamo i piani sanitari di questi anni, dove il tema è stato quello di dire vogliamo potenziare la sanità territoriale, la sanità di territorio, ma questo potenziamento cosa vuole nascondere? Vuole nascondere il depotenziamento che c'è stato soprattutto negli ospedali, perché negli anni del decreto Balduzzi e di Monti, i tagli alla sanità hanno colpito e hanno colpito forte, perché i fondi che vengono dati alle regioni negli anni sono diminuiti tantissimo, si parla ormai di 20 miliardi di tagli distribuiti su tutte le regioni, e ogni regione la parte di soldi che gli viene data per gestire il servizio sanitario nazionale è condizionata ai tagli che la regione deve operare. Quindi non so, avrete sentito sicuramente tutte le battaglie che abbiamo fatte, ad esempio sui punti nascita, dove per quel maledetto decreto si dice che i punti nascita dove si fanno meno di 500 parti all'anno devono essere chiusi. E la regione per ottenere i finanziamenti statali ha cominciato a tagliare, ma questo è uno dei pochi esempi. Perché? Perché quella sorta di riforma in realtà è stata semplicemente una spending review con dei tagli lineari, senza andare a guardare l'efficacia e l'efficienza di quello che succede nei territori. Perché non possiamo pensare di andare a tagliare e basta. Qual è l'obiettivo della sanità? È il pareggio di bilancio o la salute dei cittadini? È la salute dei cittadini. Quindi io devo garantire la salute dei cittadini compatibilmente con le risorse di bilancio. Che io prima taglio e poi con quello che mi rimane cerco di fare quello che posso. Purtroppo noi dobbiamo rovesciare questo punto di vista. E quello che vi ribadisco, abbiamo l'opportunità di rovesciare questo. Perché? Perché anche il sindaco ha potere sulla gestione dell'ASL. Perché è vero che la regione che dà gli indirizzi in nome dei direttori generali, anche su questo ci sarebbe da dire, e anche su questo come Movimento 5 Stelle, sul programma nazionale, le abbiamo dette. Perché i direttori generali non devono essere una mera nomina politica, ma devono essere fatti su competenza, trasparenza e partecipazione anche dei sindaci. Invece fino ad oggi è una nomina politica e basta. E c'è una risposta politica alle scelte politiche della regione. Bene, il sindaco ha voce su questa, perché le conferenze territoriali sanitarie sono quelle che poi danno l'indirizzo all'ASL, sono quelle che confermano che cosa si vuole fare. Quindi la voce di un sindaco che cambia tono, che cambia voce, mentre finora i sindaci sono stati così a testa bassa sulla politica regionale, un sindaco nuovo del Movimento 5 Stelle può dare voce a questo cambiamento che è necessario. Perché è vero che i servizi territoriali servono ad avvicinare la sanità ai cittadini, però non devono essere a discapito, ad esempio, dei servizi ospedalieri. E qui veniamo al discorso fusioni. Perché? Perché è vero che l'integrazione fra le varie ASL può essere importante, perché io magari faccio girare i professionisti, prendo il meglio dalla sanità di Bologna, dalle sanità di Imola e li faccio cooperare insieme. Ma la fusione ha un altro scopo. La fusione non ha lo scopo di mettere insieme le eccellenze, ha quello di tagliare e di risparmiare. Quindi anche qui la voce di un sindaco e la voce, speriamo, da quest'altro anno anche in regione, serve a modificare questo trend, che è semplicemente quello del risparmio. Quindi a livello nazionale, adesso con il nuovo ministro, Magrillo, che ha già detto che i tagli sulla sanità non continueranno, perché stiamo definanziando e depontenziando il servizio sanitario nazionale e stiamo scendendo sotto quella percentuale che l'OMS dà con le soglie di pericolo. Se scendi sotto il 6% del PIL dedicato al servizio sanitario nazionale, rischi di mettere in crisi il sistema. La sanità nazionale rispetto in Europa è una sanità di buon livello, ma se scendi sotto quel livello metti in crisi il sistema e quindi non lo fai più funzionare. Quindi a livello nazionale, a livello regionale, a livello comunale noi lavoriamo su questa linea. Altro aspetto importante per ricollegarci a quello che dicevamo, la sanità funziona se offro dei servizi efficienti ed efficaci. Se ho un buon servizio territoriale, quindi se ho dei bravi medici di base e i medici di base ce li ho, perché l'altro tema è questo, che stiamo riducendo il numero di medici di base, perché non finanziamo più la formazione dei medici di base e anche qui rischiamo di essere scarsi. L'altro aspetto è la sanità, la faccio con la prevenzione. La prevenzione che cos'è? Quanto stiamo investendo in prevenzione? pochissimo secondo noi e anche qui nel nostro programma nazionale non è, l'abbiamo sottolineato con forza, che la prevenzione, ad esempio gli stili di vita alimentari e qui ci ricolleghiamo al tema dell'agricoltura, quindi abbassare la chimica all'interno dell'agricoltura, insegnare ai nostri figli a mangiare bene, a mangiare la frutta e a mangiare la verdura. Poi anche qui ci sarebbe da dire del progetto Frutta delle Scuole che magari poi se vogliamo fare due chiacchiere facciamo anche di quello, quando facciamo arrivare le albicocche dalla Spagna non sappiamo se è biologico o no, da dare ai nostri figli, ma questo è un altro discorso. E quindi, ad esempio, la prevenzione con la formazione sull'alimentazione e l'altra prevenzione fondamentale è quella sulla tutela ambientale. Anche qui noi siamo sempre quelli che dicono no, non è vero, noi non siamo quelli che dicono no al passante, no alla discarica, noi siamo quelli che diciamo sì alla salute e alla tutela dell'assoluto dei nostri cittadini e quel sì si declina facendo delle scelte. Allora, in questi 70 anni, in questi 40 anni, le scelte, forse all'epoca non c'erano gli elementi ancora per capire l'impatto di quelle scelte, ma oggi lo sappiamo che impatto hanno quelle scelte. Quindi dire sì alla tutela dei cittadini vuol dire fare delle scelte nuove, diverse rispetto a quelle che sono state fatte fino ad oggi e noi siamo qui per questo, quindi la gestione dei rifiuti, la gestione delle riscariche, il Movimento 5 Stelle propone una cosa che è radicalmente diversa da quello che è stato fatto fino ad oggi e siamo qui per questo e siamo qui a dire ai cittadini che se volete tutelare la vostra salute, se volete cambiare radicalmente, la scelta è una sola, è il Movimento 5 Stelle e quindi la garanzia è questa, cambiamo radicalmente, tuteliamo la salute dei cittadini perché sulla raccolta rifiuti il modello che segue il Movimento 5 Stelle è diverso da quello che è stato scelto fino ad oggi perché l'obiettivo non era ridurre i costi e tutelare i cittadini, l'obiettivo era tutelare lo status quo perché abbiamo da mantenere un sistema, abbiamo da dare i dividendi e abbiamo da mantenere le società partecipate. Dobbiamo uscire da quel paradigma, qual è l'obiettivo? L'obiettivo è ridurre i costi, tutelare la salute dei cittadini e entrare finalmente nell'economia circolare. Idem sui trasporti, perché abbiamo un problema di impatto dell'aria? Perché? Perché finora hanno voluto e vogliono continuare a investire sul trasporto su gomma, sulle infrastrutture, ancora qui ci dicono voi siete quelli del no, noi siamo quelli dell'alternativa, noi vogliamo spingere sul trasporto pubblico locale, sul trasporto su rotaia, sui piani di mobilità sostenibile all'interno dei comuni. Chi lo fa questo? Chi lo farà? Lo faremo noi, non solo loro, loro non lo faranno questo. Loro continueranno a darsi una verniciata di verde e a continuare su quella strada. Quindi io vi chiedo a tutti e di fare sapere a tutti quelle 5 stelline che noi siamo il cambiamento e siamo la speranza di questo territorio e di questa regione. Grazie.